sapete già siamo in grecia siamo la regione del dodecaneso dodecaneso significa dodici isole in realtà sono 15 però tre di loro erano molto piccole non le contavano all'inizio comunque chiamiamo questa regione dodecaneso rodi è la più grande isola di questa regione e adesso andiamo verso prassonissi siamo proprio andiamo a visitare la parte più sud est di rodi dell'isola prassonissi significa isola verde praticamente se vogliamo parlare con termini geologici andiamo a vedere un tombolo è una sottile striscia di sabbia che unisce una piccola isola una roccia con la terraferma questa isola si chiama isola di tale sempre quando abbiamo questo fenomeno e questa striscia di sabbia almeno aprassonissi durante l'inverno viene coperta dall'acqua e e durante l'estate è scoperta cioè questa isoletta l'estate diventa penisola invece l'inverno è un'isola vera e propria e ancora una cosa strana che da un lato di questa striscia c'è sempre il vento e le onde e dall'altro lato il mare è sempre calmo e viceversa è stupendo lo andiamo a scoprire insieme fra poco di tutto il dedocaneso in genere è puro mediterraneo cioè molto è stato molto caldo e caldissime durante l'inverno non c'è appena fa molto freddo purtroppo c'è molta umidità qui all'isola tra la terraferma e tutte le isole il mare è sempre così certo meno male adesso oggi se parliamo di oggi meno male sono venuti gli italiani perché hanno lasciato opere grandi veramente molti edifici la città medievale l'hanno proprio rifata ristrutturata loro perché però perché Mussolini voleva far vedere a tutto l'universo che era la continuità dei romani e dei cavalieri che era un proprio diritto suo stare qui a Rodi la statua c'era veramente esistito però tutti dicono archeologi, storici, architetti che una statua con questo peso con questa altezza era impossibile stare in questa posizione impossibile proprio era molto pesante purtroppo è una delle sette meraviglie dell'antico mondo di cui sappiamo pochissime cose abbiamo pochissime testimonianze ok non sappiamo il peso esatto sicuramente pesava tonnellate però dell'altezza sappiamo che era alto 31 metri la statua della libertà dicono che si è ispirato da Colosso come tiene la torcia come ha questi raggi sulla testa allora Colosso l'ha fatto un famosissimo scultore che era nato a Lindo, Carete di Lindo si è messo 12 anni per costruirlo e povero stato poverino ha vissuto solo la stata dico 66 anni quando è uscito in pensione è morto come succede a molte persone ok a causa di un terremoto perché a Rodi succedono spessissimo terremoti pure forti voi dovete notare come da questa striscia di cui abbiamo parlato da un lato ci sono le onde e dall'altro lato il mare calmissimo e guardate la striscia di sabi che stavo dicendo a destra ci sono le onde una settimana fa che siamo venuti di nuovo per una gita dal genere le onde stavano dall'altra parte si al contrario questa striscia durante l'inverno non esiste si vede solo l'isoletta questa isola e ci si può andare solo con la nave o nuotando a presto a presto a presto a presto e poi andiamo dall'altra parte arriviamo qui al monte Taviros che il più alto monte dell'isola 1217 metri se vogliamo essere precisi di alto e poi andiamo dall'altra parte arriviamo qui al monte Taviros che è il più alto monte dell'isola 1217 metri se vogliamo essere precisi di alto tradizionale in Bonas e vicino c'è la cantina e poi nel centro dell'isola, non vedo senza i miei occhiali, da questa parte, sarà il paese dove andiamo a mangiare. Adesso facciamo la parte ovest dell'isola, Maregeo. Poi sentiamo giù a visitare il castello di Monoglisos, un castello fatto nel 15esimo secolo dei Cavalieri, dal gran maestro Daboussou nel 1476 se vogliamo essere precisi, era uno dei castelli più forti, più fortificati sull'isola. Monoglisos, che significa in greco pietra unica. Va vicino sotto il castello c'era una grotta che durante la seconda guerra mondiale si nascondevano in inglese in greco, contro i tedeschi ovviamente, era molto nascosto, molto nascosto questa grotta non l'anno trovata ma i tedeschi non, sono mai riusciti a trovare i par tigiani togarono nascosto. A presto! 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 Al settimo o sesto secolo avanti Cristo c'era un tempio di Apollo, per questo il paese l'hanno chiamato così! A presto A presto A presto A presto